Musica Telespettatori ben ritrovati con la nostra informazione. Difetto di convocazione esalta la seduta del Consiglio Provinciale di Crutone convocata per oggi. Si tiene comunque un incontro formale. Nonostante la festa, Vallone è al lavoro. È al lavoro soprattutto come Presidente della Provincia, perché la Provincia ha ancora il bilancio aperto. C'è la situazione del pagamento dei lavoratori, c'è tutta una situazione. Oggi c'è Consiglio Provinciale. Ha riunito maggioranza e opposizione. Nei giorni scorsi si è incontrato con i rappresentanti della maggioranza. L'obiettivo è quello di chiudere il bilancio. Il tentativo è quello di chiudere un bilancio possibilmente in equilibrio. Ce la possiamo fare? Non è semplice, tanto che oggi certamente solleciterò un approfondimento per arrivare a una definitiva approvazione dello schema di bilancio con la condivisione dei sindaci. Ce la possiamo fare? Il tentativo che stiamo mettendo in campo è evidente. È quello di tentare di evitare un dissesto. Seppure, diciamo, la complicanza dei numeri imporrebbe una valutazione di questo genere. Sappiamo perfettamente che dichiarà il dissesto in questo momento di riordino complessivo delle province. Da gennaio noi avremo una legge nuova che regolamenta le attività e le funzioni delle province, con naturalmente riduzione ulteriore di risorse rispetto anche al passato. Questa complessità, diciamo, di ragionamenti avrebbe indotto, come ha indotto, un certo numero di province italiane ad andare verso il dissesto e avere, diciamo, il sostegno del governo nazionale sulla operazione di riequilibrio delle finanze. Il tentativo è di vedere se riusciamo a farle con le forze... Senza andare in dissesto. Evitando il dissesto, perché sappiamo che il dissesto provoca una serie di conseguenze molto pesanti per gli enti locali. Prima di tutto per i lavoratori non diretti. I lavoratori non diretti, assolutamente. Quindi società di servizio sarebbe, diciamo, una complicanza non di poco conto. Su Acro... Tutte le partecipate, tutte le partecipate, Porto, Su Acro... Allora, ci sono tutte queste cose sulla bilancia da pesare? Voi l'avete pesata? Noi le abbiamo pesate. Abbiamo la necessità di un'interlocuzione anche in questo momento ulteriore rispetto a tutte quelle che abbiamo già messo in campo con il governo nazionale e con la regione Calabria. Quindi certamente oggi andremo a un approfondimento di questa ipotesi di schema che è già... Quindi l'ipotesi c'è già. Un'ipotesi c'è già. Che non è... è un'ipotesi che permette di chiudere il bilancio. Che permette di chiudere il bilancio sul presupposto di una condivisione di due percorsi specifici che abbiamo messo in campo in questo bilancio che hanno necessità di un chiarimento con la regione Calabria e con il governo nazionale. Quindi devono mettere i soldi alla regione e al governo. Dobbano dare garanzia della copertura di alcune partite che sono esistite all'interno della provincia di Crotone sia il governo nazionale che la regione Calabria. Se nei prossimi giorni... e quindi lo schema è pronto su questi presupposti... Se nei prossimi giorni avremo contezze di una disponibilità a ragionare su questi due aspetti specifici, di queste due partite specifici, chiuderemo in equilibrio il bilancio, eviteremo il dissesto naturalmente sapendo perfettamente che dal punto di vista finanziario, soprattutto dal punto di vista della liquidità per intenderci, e così come è stato negli ultimi mesi della passata legislatura e dell'inizio di questa legislatura, le complicazioni da gennaio a seguire per Marranno, seppure con questo sistema che stiamo mettendo in misura ridotta. Voglio dire, noi abbiamo iniziato con l'emergenza neve facendoci dare la benzina, il gasolio per i mezzi... Siamo intervenuti sull'emergenza neve. Dal comune di Cotronei. Siamo intervenuti con l'emergenza neve. Oggi naturalmente stiamo dando copertura anche all'emergenza neve e al restante... Quindi ce l'abbiamo fatta in questo senso. Ce la stiamo facendo, stiamo mettendo in campo tutte quelle attività che garantiscono almeno... E senza soldi. ...il governo di emergenza. E senza soldi. E senza soldi. E senza soldi. Facendo quasi una questua... La questua tra gli amici. Tra gli amministratori che hanno la possibilità di dare una mano. Da oggi lo faremo in autonomia perché abbiamo mandato in tesoreria e abbiamo l'esito positivo. Così come abbiamo l'esito positivo. Non abbiamo più gli 8 milioni di debiti? No, non li abbiamo scalati sensibilmente. E oggi stessa andranno in pagamento per i dipendenti l'ultima mensilità che restava. Per la gestione dei servizi? Sì, per la gestione dei servizi che provincia l'ultima mensilità che restava. Per cui diciamo... Chiudiamo in pareggio anche questo. Abbiamo sistemato anche questa partita. Le sfide che restano restano sfide molto importanti. Ora, insomma, passata l'emergenza e finita quella che era la criticità all'interno dell'ente. Resta tutto il ragionamento da svolgere rispetto alle attività residui nel discorso nazionale. Il 15 c'è l'Assemblea nazionale dei Presidenti della provincia. C'è un tema adesso che dovrà caratterizzare i rapporti tra provincia e gli altri enti sul territorio che sono costituiti dalla regione in particolare, ma anche dai comuni della provincia stessa. Che riguarda la mobilità, riguarda le attività residui, una serie di attività che saranno trasferite ai comuni e una serie di attività che resteranno trasferite alla regione con un nucleo centrale che permarrà alla provincia, sui quali dovrà farsi, diciamo, un'attività di sintesi molto importante per garantirla al meglio. Lollone, approfitto di questo fatto perché lei ha convocato per oggi pomeriggio una conferenza stampa per fare un resoconto di un anno di attività al Comune. Noi domani non andiamo in onda, andremo in onda col telegiornale il 2 gennaio. Una battuta su come l'ha passato quest'anno al Comune e ce la può fare? Ma, insomma, voglio dire, le criticità e le emergenze sono la quotidianità all'interno dei comuni italiani ormai, ma all'interno di queste criticità e di questa emergenza, oggi pomeriggio avrò la possibilità di mettere a disposizione dei cittadini crottonesi una serie di dati, che sono dati estremamente positivi. Nel senso, ad esempio, parliamo di diverse decine di milioni di lavori pubblici che abbiamo effettuato nel corso del 2014, erogando, seguendo una serie di lavori ed erogando anche relativi compensi alle imprese locali che hanno lavorato. Il Comune di Crotone, dice lei, non ha un euro di debito, sta pagando puntualmente gli operatori, contribuisce in misura consistente a smuovere un'economia locale che è alla crisi violenta. In questo momento, al Comune di Crotone, stanno continuando a svolgere attività di liquidazione per attività prestata a favore del Comune, non abbiamo un debito, abbiamo pagato la famosa rata di Ciliberto, la seconda rata di 4 milioni e dispera, abbiamo pagato la prima rata di Berlingeri, ma anche molto consistente, debiti che risalgono a 30 anni fa. Al 1980, a 30 anni fa, 35 anni fa. Li stiamo pagando puntualmente. All'interno di questa crisi generale, fare fronte in questi termini, non fare ricorso ad anticipazione di cassa nei confronti della tesoreria, significa che tutto sommato è un Comune che nella crisi complessiva si sta difendendo molto bene. Primo consiglio provinciale, dopo quello dell'insediamento, si parla di bilancio, si parla di bilancio alla luce anche di quello che è successo nei giorni scorsi? Si parla di bilancio perché è una scadenza naturale il bilancio, più che parlare da tre mesi ormai di questioni contabili, finanziarie e di bilancio. Siamo in questo primo consiglio provinciale tecnico. Può notare lei qual è lo scoramento che un consigliere provinciale, che i consiglieri provinciali almeno, che hanno perso in quel 12 di ottobre, alla luce dell'assenza totale in aula di personale amministrativo in supporto al Consiglio, ma degli stessi consiglieri. Ancora non è iniziato il Consiglio. Sì, non è iniziato. Apprendiamo da pettegolezzi di corridoio che potrebbe, dovrebbe, non si sa ancora per quali ragioni tecniche e amministrative dover essere rinviato. Alla luce per il riscontro tecnico che io personalmente ho avuto con gli uffici, si rinvia senza scanso di equivoce, si rinvia perché non si è pronti a discutere un consiglio provinciale sul bilancio. Ho appena finito di parlare col Presidente, mi ha detto che lo schema di bilancio oggi si discute. Non c'è il rinvio, lo schema di bilancio si discute. In sostanza, agli atti, perché le procedure non so al Comune di Crotone come funziona, dai pettegolezzi politici di questa città mi sembra di immaginare e capire che se l'attività politica e istituzionale è condotta così come si sta conducendo ormai da tre mesi, in questa provincia hanno ben ragione i consiglieri che contestano la propria maggioranza. Nel senso che è a ieri sera che il consigliere provinciale Arabia, ma il consigliere provinciale Maltese non hanno avuto riscontro cartaceo di alcun atto di bilancio. Noi veniamo al buio e addirittura, le dirò di più, manca quello che secondo me è l'atto fondamentale in un bilancio, il parere dei revisori dei conti. Io ho parlato personalmente con il dottore Mingrone, Presidente del Collegio dei Revisori, il quale mi ha detto che né hanno prodotto, né sono in grado di produrre per oggi, la relazione a compendio della discussione di bilancio. Il che significa che oggi se si rinvia, qualora propongano il rinvio, è perché non abbiamo strumenti contabili, cartacei, tecnici per poter discutere un bilancio. La realtà è solo ed esclusivamente questa. Volevo aggiungere un solo aspetto, sono tre mesi che si sta discorrendo di responsabilità contabile, di passato, di presente, non si parla di futuro, non si parla di strategie nelle difficoltà, è ancora di più necessario discutere di strategie gestionali quando si è in difficoltà, perché quando si ha i soldi, un ente pubblico ha la possibilità di dimostrare grandi e belle cose. Oggi, in questa estrema difficoltà, non siamo in grado di capire qual è il nostro futuro. Da ente di spesa, ed evidentemente questo è il nocciolo della situazione, abbiamo amministratori che erano abituati a considerare questa provincia ente di spesa, lo abbiamo fatto diventare nell'ultimo quinquennio, anche con i dati contabili alla mano, ente di programmazione, ed è su questo che stiamo puntando. La preoccupazione sostanziale è che tutto ciò che è stato programmato ed è stato finanziato non si sta seguendo a dovere. E se oggi andiamo in Consiglio Provinciale a discutere di bilancio senza avere strumenti, atti per poter discutere un qualcosa, addirittura anche un rinvio, le lascio immaginare qual è la situazione reale. Nella fase di costituzione della sua acro, vede la gestita all'interno del Comune. Il Consiglio Provinciale convocato per questa mattina non si è tenuto, si sta discutendo in maniera informale per il difetto di convocazione. Uno dei consiglieri provinciali non ha ricevuto la convocazione, probabilmente si tratta di Cataldo Maltese dell'opposizione, quindi ha contestato la convocazione per cui il Presidente Vallone ha deciso di aggiornare la discussione, la saluta del Consiglio al prossimo 12 di gennaio. Però questa mattina erano presenti tutti e hanno deciso di discutere almeno informalmente sulle questioni che riguardano la provincia, l'interprovinciale. Polemiche nel Partito Democratico Crotonese, i consiglieri distenzienti e gli amministratori ci dicano cosa vogliono fare, sapendo che se vogliono fare politica ci sono delle regole da rispettare sempre. Così si legge tra l'altro in un documento diffuso da Maurizio Tricoli della Segreteria Cittadina del Partito. Quanto si sta verificando all'interno del Consiglio Comunale di Crotone impone un'attenta e severa riflessione e una conseguente presa di posizione da parte di tutto il Partito. Queste parole sono introduttive a un documento diffuso dal Maurizio Tricoli della Segreteria Cittadina del Partito Democratico. Le cose nel gruppo consigliare al Comune di Crotone del Partito Democratico non vanno bene, secondo Tricoli. No, il problema non è che il gruppo non va bene, il gruppo deve rapportarsi nel giusto modo. E quindi non vanno bene le situazioni. Con il partito, perché il partito nella sua interezza ha, come ho esplicitato poi nel proseguo dell'articolo, la necessità di recuperare credibilità nei confronti della città, della gente e di chiunque. Per cui io ho ritenuto, dopo tra l'altro un'attenta riflessione che abbiamo fatto in segreteria e che ha verificato alcune situazioni, la segreteria tutta è convenuta sulla necessità di un ragionamento più complessivo che coinvolga tutto il partito, tutti gli organismi del partito, distinguendo quella che è una situazione amministrativa da una situazione prettamente politica. Punta il dito Maurizio Tricoli in modo particolare nei confronti del capogruppo Giancarlo Devone e gli dice che non ci può essere un parallelo rispetto al partito. Lui non può comportarsi in maniera diversa dal partito, come se fosse un'altra cosa. Ovviamente io non punto il dito sul Giancarlo Devone, io punto il dito sul suo ruolo. Sul suo ruolo che a mio avviso, e penso indiscutibilmente, è quel ruolo che deve fungere da cerniera tra un ragionamento politico fatto all'interno del partito e quella che è l'attività amministrativa di una giunta, peraltro, a guida PD e per cui ci impone un senso di responsabilità. Non solo a guida, a maggioranza pure. A maggioranza PD e che ovviamente ci impone una responsabilità maggiore rispetto alla situazione complessiva generale. Che cosa dice poi Maurizio Tricoli? Nessuno dovrà essere più concesso come per la tela di Panelope di disfare il lavoro che con pazienza e perseveranza ancora una parte del partito sta provando ad intessere. Beh, è un po' un'esplicitazione di un concetto di fondo del comunicato e cioè la politica, si sa, sta vivendo un momento triste, io dico, nei confronti di quello che è il rapporto tra cittadino e politica. La gente è molto lontana dalla politica e noi all'interno del PD stiamo provando in tutti i modi a riavvicinare la gente alla politica e quindi a ridare quella credibilità che abbiamo perso in tanti anni. È indiscutibile, questo è un elemento indiscutibile sotto gli occhi di tutti. Poi conclude in questo modo significativamente. I consiglieri dissenzienti e gli amministratori ci dicono cosa vogliono fare sapendo che se vogliono fare politica ci sono delle regole da rispettare sempre. Questo è un monito che io ovviamente ho lanciato in primis ai consiglieri oggetto di questo comunicato, diciamo, soggetti interessati di questo comunicato. Però la verità... All'ario Oliverio, cosiddetto Oliverio. No, 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 assolutamente, assolutamente. Perché lei fa parte dell'ario Oliverio? Perché io faccio parte dell'ario Oliverio. No, non è quello il problema, il problema è un altro. Ci sono delle regole statutarie nel partito, oltre a delle regole anche non scritte che devono essere rispettate quando si agisce per un partito. E siccome quei consiglieri, come tutti gli altri... Ma quei chi sono? Eh, in primis... Allora Devona e tutta l'aria che si... Professore Megna, lei li ha intervistati e quindi non può dirmi, non può chiederlo a me. No, no. Non è, è un... Capisco che per semplicità... No, ma chi ci ascolta deve capire a chi è... Cioè, ma chi ci ascolta capisce molto meglio di noi, sa molto meglio di noi le cose e capisce meglio di noi. Un nome solo abbiamo fatto. Ma io lo faccio il nome in quanto capogruppo. Capogruppo. E gli altri... E per me ha una responsabilità in più per quanto mi riguarda. Sì. Quindi il problema, non ripeto, non è quello, solo quello... Parto dai consiglieri, ma il problema è del partito. Io dico che è un partito come dovrebbero fare anche gli altri partiti, a mio avviso. perché la politica da fuori ormai è vista come una cosa strana. È vista quasi come una cosa a proprio uso e consumo di soggetti particolari, di pochi gruppi e non è così. Non è così, generalizzare non è mai cosa buona. C'è un problema all'interno del gruppo, c'è un problema di gestione del partito. C'è un problema politico. C'è un problema di gestione del partito, no? C'è un problema politico di rapporti tra... Dalla segreteria cittadina. Dalla amministrazione, tra gruppo consigliare, tra gruppi dirigenti. Tricoli, ma il partito di cui parla lei è il partito cittadino o quello provinciale? O tutte e due? Ma il partito non si può distinguere un partito cittadino. No, quindi chi dirige la provinciale? Tutte e due. Allora, il partito cittadino è ovvio che rappresenta il fulcro di un ambito più ampio che è quello provinciale. È inutile nascondersi dietro al dito, fa da capofila. La città è comunque rappresentante di un territorio più vasto. Poi le rappresentanze bene o male molto spesso coincidono pure, per cui non si può... Vediamo se ci troviamo d'accordo. Lei dice che bisogna cambiare il modo di ragionare, sia all'interno del gruppo consigliare e sia nella gestione del partito. È così? Io l'ho detto chiaramente, non mi deve fare la domanda. Lei, da attento osservatore, non può farmi una domanda. No, io non ho letto tutto il suo. Perché se... No, non mi dica questo perché lei... Non ho letto, i cittadini che ci ascoltano devono capire. Ma le domande me le fa lei. E certo. E quindi le domande io so che lei le fa in maniera oculata e ponderata. Per cui il problema è un problema della politica, della politica che bisogna ritrovare. E' stato chiarissimo. E' uscita polemiche il rinvio della seduta del Consiglio regionale della Calabria. Che c'è sotto la mancata celebrazione del Consiglio regionale della Calabria che era stato convocato in prima seduta ieri e in seconda seduta oggi? Allora, le scuse che sono state apportate erano quelle che Ennio Morrone, già il capogruppo di Forza Italia nella passata legislatura in Consiglio regionale della Calabria, rieletto, ha chiesto di rinviare la seduta a data prossima al 7 di gennaio perché non era disponibile. Perché il 29 e il 30 non era disponibile, aveva il raffreddore e quindi non era disponibile. Pensate un pochino, un consigliere ha il raffreddore alla febbre e viene rinviato viene rinviato alla seduta del Consiglio regionale della Calabria. Evidentemente il rinvio stava bene a Mario Oliverio che ancora non ha chiuso il cerchio per la formazione della Giunta e quindi più tempo passa e più a lui fa piacere perché ancora non ha, probabilmente non ha, l'idea ce l'ha, ma non ha messo tutti i tasselli per chiudere il cerchio intorno alla sua prima Giunta. Va bene, la polemica però interessa soprattutto il gruppo di Forza Italia, ma perché? Che c'è sotto? La polemica che vede scritta da una parte Morrone, dall'altra, gli altri sei eletti nel Consiglio regionale della Calabria nelle liste di Forza Italia. Il problema della scelta del Vice Presidente in Consiglio regionale in Forza Italia non c'è l'accordo su cui deve fare il Vice Presidente e non c'è l'accordo su cui deve fare il Capogruppo, chi deve essere il Capogruppo. E allora basta anche una richiesta come quella di Morrone che viene accolta in maniera strumentale dalla maggioranza per far scoppiare la polemica anche all'interno di Forza Italia. Insomma, sono cambiati i suonatori, ma pare che la musica sia sempre la stessa. La Calabria vuole vedere cose nuove, vuole vedere novità, vuole che si giri la pagina e che si lasciano alle spalle le cose del passato. Iniziativa stamane presso la stazione ferroviaria di Crutone promossa da Italia Nostra in collaborazione con l'Associazione Ferrovia in Calabria, Filt CGL e i familiari delle vittime del 16 novembre 1989. La CGL, Filt CGL di Crutone insieme a Italia Nostra hanno organizzato per questa mattina una manifestazione per ricordare le vittime ferroviarie del 16 novembre 1989. Ricordiamo per non dimenticare quello che è successo e nello stesso tempo il tutto per ricordare specialmente al nuovo Presidente della Regione Calabria che questa tratta ionica è stata abbandonata completamente. Noi chiediamo che riprenda il vecchio splendore degli anni passati. Quindi è questo il motivo dell'iniziativa di quest'oggi? L'iniziativa è doppia diciamo per dare ricordare e far ricordare che sia le vittime non siano state in vane per cercare di portare avanti questa ferrovia ionica dimenticata da Dio e dagli uomini. Italia Nostra e la Filt CGL di Crutone avete organizzato questa manifestazione per ricordare le vittime ma per dire anche che esiste un problema della ferrovia di Crutone. Sì, certamente l'abbiamo organizzato insieme anche a Ferrovia in Calabria e agli infamiliari delle vittime dell'incidente del 16 novembre. Certamente è un problema, è un problema molto serio perché qui in questo territorio siamo isolati, noi lo diciamo da tantissimi anni, è venuto il momento, ora abbiamo un nuovo governo regionale, è venuto il momento che le iniziative siano ben diverse, che l'attenzione ci sia tutta indirizzata nei confronti del potenziamento e della messa in sicurezza delle infrastrutture, cominciando con le ferroviarie della ionica nel collegamento non solo regionale ma anche col resto d'Italia perché attualmente ci sentiamo veramente molto, ma molto isolati. Più marocchini che calabresi. No, senza offesa. Ma senza offendere i marocchini per dire più africani. Le loro strade ce l'hanno, in Africa ce l'hanno tranquillamente. Ma volevo dire che c'è il mare di mezzo in questo senso. Noi invece purtroppo insieme, ma neanche la Basilicata, forse un po' la Sicilia meridionale, siamo veramente i più isolati che esistono in tutta Italia. Quindi questa situazione non va bene, ci sta penalizzando anche dal punto di vista economico, la mancanza di questi collegamenti non ci porta ai flussi turistici che dovrebbero venire perché abbiamo parecchio patrimonio culturale e anche ambientale e quindi tutto negativo. Noi dobbiamo voltare pagina e questo bellissimo presepe che è stato creato dal signor Romano, Ivan Romano, che porti per il nuovo anno anche un messaggio di pace, di augurio, di cambiamento proprio di attenzione nei confronti della linea ferroviaria, che anche i crotonesi che portino i loro bambini che vengano a visitare i treni perché dietro i treni c'è un patrimonio di tecnologia, scientifico, ci sono anche state tante vittime tra cui queste 12 vittime che noi vogliamo onorare e ricordare. De Masi, lei è sempre presente quando si parla di infrastrutture? Ci mancherebbe altro, sono il presupposto per qualunque avvenire per questa realtà, anche queste piccole ma significative iniziative vanno sostenute, vanno confortate anche con la presenza perché tutto può contribuire ad indurre un ravvedimento circa misure che stanno penalizzando in maniera davvero drammatica la nostra area. Francesco Amelio è uno dei familiari, presenta a Crotone per ricordare la moglie che ha perso la vita in quel tragico incidente. Sì, tragico incidente appunto... Come si chiamava sua moglie? Si chiamava Pistoglia Carmelina, era una maestra, insegnava a Torre Melissa e appunto faceva la pendolare da Sellia Marina. Io voglio dire, è una tragedia che si ripete ogni anno grazie anche alla caparvietà. Si ricorda la tragedia? Ma diciamo non è ricordata da molti però appunto c'è solo in questo momento Italia Nostra che caparvietà ogni anno vuole ricordare questa giornata. una volta fatta abbiamo pure, hanno voluto intitolare questa piazza stazione che si chiamava senza nome ma appunto chiamandola Piazza 16 Novembre, il ricordo della tragedia appunto avuto il 16 novembre del 1989. Io ringrazio il presidente Liguori appunto per questa, come dire, sottolineare appunto questa tragedia ma vedo poco presenti i politici, vedo poco presente tutte le altre associazioni, non sono molto presenti anzi, io dico che quando è stata la tragedia c'è stata una solidarietà eccezionale della città di Crotone. Però vedo che poi si era parlato appunto di un monumento, si era parlato di una lapide però non è mai stato fatto niente appunto perché il comune e allora mi ricordo Monsignor Agostino che adesso è a migliore vita voglio dire, ricordò quella giornata e me lo ricordo ancora dicendo, dice, queste sono vittime del lavoro, quindi sono degli eroi del lavoro. Ecco, come una città di Crotone appunto che è vissuta sempre sul lavoro, come la Pertusola, come la Montedison e tutto il resto, non sto qui sicuramente a voler decantare quelle che sono la laboriosità della città di Crotone appunto che l'hanno fatta morire anche come lavoro. Insomma, ecco, sta scemando anche questa cosa. Allora, perché tutto non debba essere vanificato appunto come il lavoro e tutto il resto e noi abbiamo dei grandi patrimoni appunto, ecco, anche la stazione è un patrimonio, è un servizio e cioè voglio dire per la qualità della vita che potrebbe avere anche la nostra regione, la nostra città e il nostro litorale per avere anche la bellezza culturale che Crotone, voglio dire, è dove è nata la cultura, la culla della Magna Grecia, insomma. Ecco, quest'appello è appunto per non dimenticare, ma non dimenticare tutto, non dimenticare solo determinate cose, insomma. Ecco, faccio appello ai politici anche alla nuova, alla nuova, come dire, giunta regionale che non si dimentica. Per il momento al Presidente. Ecco, al Presidente, che non si dimentica nemmeno di questa, di questa tragedia e far sì che appunto, ecco, possono cambiare le cose, insomma. Grazie. In Silla arriva tanta neve, impianti aperti a trepidone, parliamo con il Sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro. Arriva il Burian, il freddo gelo dalla Siberia e arriva la neve. A Crotone, il termometro è sceso stamattina intorno a 6 gradi, ma durante la notte siamo vicino allo zero in montagna, è arrivata la prima neve. L'immagine che vedete è quella di Cotronei, che c'è stata inviata, no, di Cotronei, di Trepidò, c'è stata inviata, ovviamente Trepidò si trova nel Comune di Cotronei, c'è stata inviata dal Sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro. Buongiorno Belcastro, questo Capodanno è tutto bianco. Buona giornata. È tutto bianco, abbiamo il Sindaco al telefono. Allora, erano anni che non si vedeva tanta neve? Erano almeno due anni che non c'era una nevigata di questo genere. Noi abbiamo già, insieme con gli operatori, con gli ultimi voglio ringraziare da subito. Gli operatori turistici sta parlando? Sì, tutti quanti operatori turistici, che sono in fila, abbiamo già detto tutto quanto per quanto riguarda la migliore possibilità e accoglienza di gestione e di attività sportive in estere, per cui siamo i primi impianti aperti in Calabria, impianti civiltici aperti in Calabria. il panseo è dedicato, ieri si sciava da noi. Cioè da ieri si scia a trepidò, da ieri si scia? Il bilancio da lungo da ieri si scia. Com'è la presenza turistica? La presenza turistica ci annuncia particolarmente positiva, però anche tutti quanti gli operatori sono ormai i quadri pieni e c'è anche gli appartamentini che sono, so che c'è una soluzione a questa camera particolarmente significativa. Speriamo che noi ci siano, come dire, disagi e tanti da specificazioni enormi, che dicono, se non è difficoltà, ma che continua così, anche con questo prezzo, per via dei cannoni artificiali, che possono continuare a rinnevare il pane artificiale direttamente alle pizze. Speriamo in una lunga situazione di tornare. Allora, questo è l'agurio di tutti quanti, che il 2015 arriva con un piede giusto. Con il piede giusto e con una possibilità di una produzione turistica che da più tempo mancava, sicuramente oggi mi consente di poter guardare in maniera positiva questo scorcio di questa fine del 2014, l'inizio del 2015, sicuramente in maniera più opportuna. Allora, tanti auguri a lei e a tutti gli abitanti di Cotronei. Grazie, mi consente di poter fare gli auguri anche a tutti quanti. I telespettatori di Crotone, che ci seguono. Va bene, grazie, grazie Belcastro, buon lavoro, grazie. L'orchestra regionale della Calabria Paolo Serrau comunica che giorno 1 gennaio alle 11 presso il Teatro Apollo di Crotone, nell'ambito della stagione sinfonica 2014-2015, si terrà il concerto di Capodanno. Parzialmente nuvoloso, visibilità ottima e vento di venti nodi. Il tempo previsto per domani su Crotone è provincia. Le temperature invece si dovrebbero mantenere sui 3 gradi. Bollettino nautico del Marrionio. Tempo, vento da nord-est a forza 8 in attenuazione. Isolati temporali, visibilità discreta. Mare agitato, tendenza. Vento da nord a forza 7. Isolati temporali. Bene, io ho terminato. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.